Siamo con vetture di classe 30, una vettura veramente importante, volete salire? Facciamoci salire così facciamo due parole, prego perché non possiamo non ammirare questo pezzo unico possiamo definirla la reginetta, ben arrivati, è la reginetta di questa edizione allora questa stupenda Singer Le Mans Special Speed, allora descriveteci la voi, tutta la storia, la gloria due volte la mille miglia, una l'ha finita e una no, è originale, è un gioiello sono pezzi, è perfetto, non diciamo quando arriviamo bene, allora prima volta qua a Biella, la seconda, cosa? Cambio di macchina qui complimenti davvero, lasciamo spazio alle fotografie a questa stupenda vettura appunto che ha fatto la storia, guardate, pezzi unici, 10 e 15 la partenza, quell'effigie della mille miglia, questa stupenda...